Dal 5 al 26 marzo il Ridotto del Politeama ospita l'ottava edizione di Politeama in primo piano, con la direzione artistica di Mirko Guerrini. La rassegna, che quest'anno prevede quattro appuntamenti, è come sempre dedicata al jazz e dà spazio ad alcune delle più giovani e interessanti proposte del panorama musicale italiano. Per quattro martedì consecutivi al Ridotto del Teatro Politeama, che è un luogo bello tanto quanto la sala principale, musicisti jazz da tutta la Toscana si alterneranno per concerti che daranno esattamente la misura dell'attuale offerta della musica jazz nel panorama italiano. A dare il via alla stagione sarà Marco Benedetti Quartet, a seguire il 12 Riccardo Gallardini Trio, il 19 Fabio Morgera, in chiusura il 26 marzo Carta Bianca Stefano Tamborrino. Io amo il jazz e il jazz si farà anche se ci costa tanto. Il lato quattro animale, come sempre, io lo dico, non c'è niente da fare, perché c'è stato tante cose da fare, da ristrutturare, il sopra, il sopra ci ha finito. Comunque, guai, lo volevano cinesi, ma è meglio non glielo dare, è meglio e meglio. Nel 2014 il bilancio comunale aveva stanziato 75 mila euro per il Politeama, nel 2018 abbiamo raggiunto 445 mila e anche per il 2019 non ci tireremo indietro, è la risposta dell'assessore Mangani alla Presidentessa. I biglietti in vendita al Politeama costano 7 euro, 15 con apericena ed è possibile anche acquistare un abbonamento al costo di 25 euro.